Mancano duecento metri al punto di partenza, mentavelo sta la macchina, si ritrae dall'Ara Antonio Greppi con Mecrebi, al pari di Mauro Baroncini per Nerone Dasolo e di Marcello Lettieri per Missuri Carr. Marissa al comando, Marissa avanti a Noblesse Como, poi all'esterno Olli Robb, quarta posizione Mercurio Spin, poi Nerone Dasolo, in piegata Marissa all'avanguardia, tredicinetti in lancio, l'errore intanto di Missuri Carr, completamento della piegata, la squalipica per Missuri Carr, Marissa in vantaggio nella sua scia, Noblesse Como, poi all'esterno Olli Robb, avanti a Mercurio Spin, quindi all'argo Nerone Dasolo, poi Martina Griff, quindi ancora Mecrebi in coda, oltre code, 44,7 per il 600, seconda e penultima curva, sempre all'avanguardia Marissa, seconda all'esterno Olli Robb di misura su Noblesse Como, poi in linea Mercurio Spin e Nerone Dasolo, 1,004 per gli 800, la media di 1,14,5, con Marissa sempre battistrada, avanti a Olli Robb, Robb, chiavi interno, Noblesse Como, completamento del giro in 15 a 3, dopo il secondo quarto completato il 31,2, all'avanguardia sempre Marissa, Marissa avanti a Olli Robb, Noblesse Como, Nerone Dasolo, Mercurio Spin, Martina Griff, oltre code, poi Mecrebi, 29 netti il terzo quarto, ingresso indirittura con Marissa avanti a Olli Robb, sposta a centropista Nerone Dasolo, Nerone Dasolo a centropista sta passando, si tracina Martina Griff, Nerone Dasolo in vantaggio, poi lo scatto all'argo di Martina Griff, Nerone Martina Noblesse, e poi Mercurio Spin per linee interne, favorito Mecrebi, non pervenuto, 1,58,5 il tempo totale, la media al chilometro di 1,14,1, sono le battute conclusive ad Aralmenti, con il 5 di Nerone Dasolo che va a concludere sul 9 di Martina Griff, quindi l'1 di Noblesse Como, il 3 di Mercurio Spin e il 4 di Marissa.